L'idee d'atleta è una patologia causata da specifici funghi. Non è altro che una micosi superficiale che colpisce la pelle. Prende anche il nome di tigna del piede oppure di micosi del piede e colpisce molto spesso gli atleti o chi frequenta dei centri sportivi pubblici dove c'è un clima caldo o umido come per esempio le palestre o le piscine e i funghi riescono a proliferare più facilmente. Da alcuni scienziati questa patologia è considerata come una malattia da mismatch evolutivo. La nostra evoluzione non ci ha preparato per le scarpe e soprattutto per gli ambienti chiusi che vanno a creare le condizioni ideali come abbiamo visto per la proliferazione dei funghi stessi. L'infezione avviene o per via diretta attraverso il contatto con lesioni di altre persone oppure in modo indiretto per contatto con delle superfici infette. È una patologia molto diffusa nel mondo colpisce maggiormente i soggetti adulti e anziani e colpisce prevalentemente i maschi rispetto alle femmine. Sono più colpiti i soggetti immunodepressi e sono più colpiti soprattutto gli atleti. Fattori predisponenti sono l'accumulo di umidità o per esempio camminare scalzi in questi ambienti a rischio oppure indossare anche delle scarpe molto strette. I segni e sintomi della patologia sono appunto specifici tant'è che essi permettono di porre diagnosi. C'è appunto molto spesso un prurito intenso con delle desquamazioni della cute, la presenza di vesciche e anche un cattivo odore dai piedi. Il trattamento prevede di solito l'utilizzo di farmaci antimicotici a base di polveri, unguenti, spray o pomate. Alle volte la terapia appunto viene assolta per via di compresso. In generale i tempi di guarigione sono relativamente lunghi.